Allora riprendiamo l'esercizio di prima, eravamo arrivati alla popolare la prima tendina con lo stato di partenza, ho semplicemente modificato rispetto a prima il two string dell'oggetto country per renderli forse un po' più leggibili, poi magari bisognerà anche modificare l'ordine, perché altrimenti se uno deve cercare uno stato, qui sono in ordine sparso o meglio in ordine di query, così come vengono fuori dal database, vammi a trovare dove va l'Italia, noi ci ricordiamo che è 325, quindi più o meno a un terzo di questa tabella, però in generale non sono facili da trovare, quindi magari dopo li mettiamo in ordine alfabetico. Ma adesso concentriamoci sulle funzionalità legate al grafo, allora cercare raggiungibili significa prendere un ordine di partenza, un vertice di partenza e visitare il grafo a partire da quel vertice, il risultato della visita, dicevamo la volta scorsa, non è altro che un insieme, un set di vertici che attraverso un certo numero di archi intermedi vengono raggiunti, quindi dal punto di vista del grafo, trovare tutti i vertici raggiungibili significa prendere il grafo e fare una visita. Quindi public, facciamo in modo che il model restituisca una lista di vertici, chiamiamolo get raggiungibili, a partire però da un determinato stato noto, lo stato di partenza l'abbiamo chiamato così nella interfaccia, continuiamo a chiamarlo così. Allora, questi sono l'insieme degli stati raggiungibili, come li ottengo? Potrei farlo facendo una serie di query nel database, ma mi fanno impazzire, perché non sono solamente gli stati confinanti con l'Italia, sono quelli confinanti e a loro volta con i confinanti dei confinanti, eccetera, eccetera. Quindi, avendo la struttura dati a grafo, posso semplicemente usare un algoritmo di visita e farmi dare automaticamente tutti. Quindi, dovrò fare in modo che questo metodo get raggiungibili usi il grafo, costruisca il grafo e poi vi faccia una visita sopra. Grafo che è pensato per essere memorizzato dentro la variabile model e quindi faremo un... Io mi immagino, per usare il meccanismo di prima, un metodo get grafo che mi restituisce il grafo su cui posso lavorare. Il metodo get grafo crea il grafo se non è ancora stato fatto, oppure mi restituisce il grafo che è già stato creato. Cominciamo a usare sempre questo meccanismo, perché di nuovo non sappiamo in che ordine vengono chiamati i metodi. Quindi, una volta che ho bisogno di una struttura dati che non è ancora pronta, me la devo creare. Se però l'ho già creata, non voglio ricrearla di nuovo una seconda volta, inutilmente. Oppure no? Fatemi pensare. Perché se devo chiamare due volte il metodo get raggiungibili, il grafo che devo usare sarà lo stesso oppure no? Perché cambia uno dei parametri di questo metodo. In questo caso è lo stesso. Se non devo cambiare il modo in cui costruisco il vertigo, il grafo ha indipendenza in funzione di questo parametro. Se l'utente potesse invece scegliere nell'interfaccia l'anno rispetto al quale calcolare le relazioni di vicinanza, allora qui sì, che dovrei ogni volta che mi chiamo al metodo, costruire il grafo nuovo da zero perché la query sarà diversa. Perché in quel caso l'anno minore o uguale di mi restituisce un insieme di archi diverso. In questo caso no. Allora io posso implementare un metodo che può anche essere un metodo privato. Questo è un undirected graph di country di voltage, getGrapho. Questo metodo getGrapho è un metodo relativamente semplice perché semplicemente chiama la creaGrapho che abbiamo definito sotto. Quindi sarà un if grapho, grapho si chiamava la variabile, this.grapho, uguale uguale null, this.creaGrapho3 perché non siamo masochisti, return this.grapho. E così sappiamo che abbiamo una creazione on demand alla bisogna del grafo quando ci serve. Allora metodo getGrapho raggiungibili, prendo il grafo e lo visito. Quindi undirected grapho di country, io vado a scrivere questa cosa ogni volta, g uguale this.grapho, edge. Una volta che ho il grafo g, quindi non uso this.grapho perché non sono sicuro che sia inizializzato, chiamo il metodo getGrapho per avere un riferimento locale, che a questo punto sono sicuro che sia inizializzato, o l'ora già prima oppure l'ho inizializzato adesso, e poi faccio una visita del grafo, ad esempio una visita in ampiezza. Allora ricordiamoci che in jgraph-t la visita in ampiezza viene attraverso un iteratore in ampiezza, country, con la stessa signatura del default edge, bf, vert-first-iterator, uguale new, vert-first-iterator, e devo prendere tra i vari metodi per costruire l'iteratore, quello a cui posso già passare il vertice di partenza. Perché io voglio passare non solamente il grafo g, ma anche il vertice di partenza, che è il mio parametro partenza. Adesso andiamo a capo così si legge. Quindi, inizializzo un iteratore in ampiezza del grafo g partendo dal vertice di partenza, che è il mio parametro. Questo iteratore poi andrà fatto rotolare, fatto iterare fino in fondo, lo devo far esaurire, e ogni volta che vado avanti mi dà un nuovo vertice dell'insieme. Quindi a questo punto io devo costruire, mentre lui va avanti, scusate che chiudo queste finestre mi fa fastidio, vado avanti con l'iteratore chiamando il metodo next, e ogni volta vado ad aggiungere a una lista, che sarà poi il risultato, il vertice successivo che è stato calcolato. Quindi, creiamo la lista, lista di country, list uguale new array list, e poi while iterator bfi as next, list.add bfi.next. Quindi faccio sviluppare l'iteratore fino in fondo, e ogni volta che chiamo next mi restituisce il prossimo vertice della visita, e io la memorizzo nella lista. Alla fine questa lista è il risultato che cercavo. Ok. Ok. Non c'è un metodo in jgraph.t che dato un vertice mi dia già direttamente l'insieme dei vertici visitati. Devo visitarli, e poi in realtà quando li visito, questo next è l'operazione di visita del vertice, mi dà il vertice nuovo, non ci faccio nulla se non memorizzarlo. Alla fine dovrei avere però l'elenco dei vertici visitati nell'ordine in cui sono stati scoperti dall'iteratore. Allora andiamo a vedere controller. A questo punto il controller può facilmente implementare il metodo endo-raggiungibili. Quindi gestire la pressione del bottone dammi tutti i vertici raggiungibili. In cui basta che io vada a prendere, a scoprire qual è la country di partenza che l'utente ha selezionato, che sarà nel box partenza get value, se ho selezionato una voce della tendina oppure non ho selezionato nulla, quindi devo fare attenzione, quindi se per caso partenza null, allora non devo fare nulla perché l'utente non ha selezionato, quindi scriverò un messaggio d'errore. Errore, devi selezionare lo stato di partenza. partenza a capo, chiudi. E basta. E non faccio altro. Altrimenti faccio il lavoro di chiedere al modello list di country raggiungibili 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 ok, uguale model.get raggiungibili da partenza. E cosa me ne faccio di questa lista? Beh, innanzitutto la stampo ma poi soprattutto ci popolo la seconda tendina. Quindi la stampo, facile, txt result, soprattutto se non vogliamo stampare bene ma punto append text raggiungibili raggiungibili questa mattina non scrivo le parole giuste ma soprattutto dobbiamo riempire la seconda tendina perché poi questo permetterà all'utente di fare poi il passo successivo. Quindi box destinazione punto get items allora fatemi prima cancellare gli eventuali elementi precedenti perché se io posso chiamarlo più volte questo metodo quindi ogni volta devo ripulire la seconda tendina svuotarla e caricarla con i nuovi valori perché altrimenti si aggiungono quelli precedenti se non facciamo questo clear get items get items .add all raggiungibili e qui stiamo visualizzando i risultati della visita sia nell'area di testo ma sia soprattutto nella tendina cosa mi da andiamo di farlo funzionare allora stato di partenza prendiamo i Stati Uniti cercare raggiungibili cercare raggiungibili vediamo eccezione ovviamente di che cos'è qua illegal argument exception il grafo deve contenere il vertice di partenza allora questa eccezione qua è moda appunto già la 37 adesso andiamo a vedere cosa c'è quella riga dice il grafo deve contenere il vertice di partenza moda appunto già la 37 è la creazione dell'iteratore quindi lui mi sta dicendo guarda che il grafo G non contiene questo vertice qui perché probabilmente sono due casi o il vertice di partenza è sbagliato oppure il grafo è sbagliato allora andiamo a vedere quale delle due sia mettiamo un breakpoint o credo di aver creato il grafo e non l'ho fatto allora abbiamo detto Stati Uniti in America cerca raggiungibili torniamo in Eclipse andiamo in debug dove siamo qua aspetta che c'è troppo roba qua che gira allora debug no no Non mi blocchi in un posto recente? Sto cercando di capire perché questo non mi blocca sulla linea di codice. Vabbè, dicevate che avete trovato l'errore? Qua? Nel controller non ho creato il grafo, ma questo lo volevo, nel senso che il controller non sa neanche cos'è un grafo, non gli interessa, no? Il controller dice, io voglio, caro modello, che tu che sai tutto, dammi quali sono i vertici raggiungibili e poi quindi chiamo la get raggiungibili. A get raggiungibili, a questo punto è il modello, dentro il modello, che decide, va bene, per calcolare quali sono questi raggiungibili il modo più comodo che ho è quello di usare il grafo, allora me lo creo. Il get grafo dovrebbe chiamare crea grafo 3 e crea grafo 3 dovrebbe creare questo grafo un sospetto, fatemi vedere, fatemi già la 2. C'è sempre la stessa ruota. Allora, volevo vedere passo passo questa cosa qui. Allora, qui siamo dentro il get raggiungibili, partenza è un country che è questa, questo oggetto qua, quello che abbiamo scelto. Adesso, il get grafo dovrebbe accorgersi che entriamo dentro, quindi il get raggiungibili dice, dammi il grafo perché voglio visitarlo, entro dentro il metodo get grafo che c'è qua e this.graph, sono scemo, non è nullo e questo è l'errore. Cioè lui crea il grafo se la variabile graph è null. Peccato che sotto la categoria sono scemo c'era il costruttore del modello che creava un grafo vuoto, quindi la variabile this.graph non era null, ma puntava a un simple graph con zero vertici. Allora lui diceva, il grafo ce l'hai già, cosa vuoi? Non sto a crearne uno nuovo, non sto a disturbare il database, quindi non va bene. Questa roba qui la togliamo dal costruttore del modello e la mettiamo dentro il creagrafo. tutti e tre. Alternativamente avremmo potuto testare se il grafo aveva zero vertici però. Ok, quindi funzionava tutto, ero io che andavo a interrogare per sapere se il grafo era già creato o no, andavo a fare il test sbagliato, se la variabile era inizializzata o no. Purtroppo nel costruttore inizializzavo la variabile su un grafo vuoto. Lui lo vedeva già inizializzata, quindi non creava il grafo, ma quando poi ci cercava il vertice ovviamente non lo trovava. Allora mettiamo a creare grafo 3. Allora vediamo se è vero tutto ciò, nel senso che adesso dovrebbe funzionare. Ok. Allora qui ha stampato un po' di cose, chiaramente stampando una lista l'estetica non è mai il massimo, ma soprattutto ha popolato la seconda tendina con l'elenco degli stati raggiungibili. Allora noi abbiamo per ora fatto una visita in ampiezza, no? E quindi si vede che a livello zero li mette in ordine di livello, i vertici. Qui a livello zero c'è il vertice di partenza. Poi ci sono i confinanti diretti col vertice di partenza. Quindi Stati Uniti d'America confina con Canada e col Messico e via terra basta. Poi ci sono gli stati confinanti a loro volta con Canada o Messico. Tra via terra il Canada non confina con null'altro che non siano gli Stati Uniti, quindi non genera nulla di nuovo, ma il Messico confina con una serie di stati dell'America centrale. E da qui si va avanti fino a mangiarsi tutta l'America centrale e l'America del Sud. Se io scegliessi invece, abbiamo detto l'Italia, 325, cerca raggiungibili. È qua che dicevo che questa seconda tendina nel momento in cui premo cerca raggiungibili va alzerata e poi caricata con i nuovi risultati. Perché se io essi semplicemente addol della seconda tendina, li troverei tutta l'America del Sud e poi dopo sotto i confinanti con l'Italia. Invece no, devo prima ripulirla, cancellarla e poi aggiungerli. Quindi cerca raggiungibili, questa volta mi dice che l'Italia confina innanzitutto a livello 0, a livello 1 confina con Francia, Svizzera, Germania, Austria e poi vabbè c'è Regno Austro-Ungarico, Regno delle Due Sicilie, San Marino, Regno di Modena, Parma, ecc. che non ci sono più, ma non abbiamo modo di discutere del database. Jugoslavia, Slovenia. Perché c'è l'Olanda? L'Olanda confina con la Francia, qui siamo a livello 2. Il Belgio confina con la Francia, qui abbiamo i confinanti con la Francia, Principato di Monaco, Spagna, Andorra e così via. La Baviera, ma poi in generale la Germania, sono quelli che confinano con Svizzera e così via. Si va avanti fino ad arrivare, qui arriva in Turchia, vedete che saltano un po' avanti e indietro, non c'è, non dobbiamo mai leggerlo come un percorso il risultato di una visita. Sono degli Stati che complessivamente in qualche modo sono riungibili, adesso dovremmo scoprire come. Poi però col fatto che si arriva via terra fino in Turchia, da un lato si può salire su tutta l'Asia e dall'altro si riesce a scendere anche nell'Africa direi. E quindi mi piacerebbe capire come passi dall'Asia all'Africa, ma probabilmente si considera un confine via terra. Ok? Adesso la nostra domanda è se io voglio sapere come far andare dall'Italia alla Grecia ad esempio, dovrei farmi dire, col bottone cerca percorso, dice va bene, tu mi hai detto che la Grecia è raggiungibile, ma come? Ma come faccio a raggiungerla? Allora l'algoritmo di visita scopre gli Stati, quindi a un certo punto l'algoritmo di visita avrà scoperto la Grecia e quando l'ha scoperto la Grecia è perché la stava visitando a partire da uno stato vicino. Solo che poi questa informazione di come lui l'ha scoperto viene persa perché nel risultato dell'iteratore non c'è questa informazione. Ok? Ma noi possiamo ricostruircela, possiamo decidere di ricostruircela o di farsela dire osservando l'iteratore mentre lavora. l'iteratore DJ Graph T, questo Bradford iterator, andiamo un po' a vedere la documentazione cosa si dice. Questo Bradford iterator, così come tutti gli iteratori, ha la possibilità di registrare dei listener, cioè dei metodi che vadano ad ascoltare cosa lui sta facendo. Un listener non è altro che un gestore di eventi, così come noi abbiamo un gestore per l'evento click, per l'evento dell'azione del bottone, no? Semplicemente quando abbiamo nel controller i vari metodi vengono eseguiti quando si verifica un certo evento nell'interfaccia utente. Qui il concetto è lo stesso, l'iteratore va avanti, mentre lui va avanti genera degli eventi e se io voglio posso andare ad intercettare alcuni di questi eventi e fare delle cose. In particolare vedete che posso aggiungere un traversal listener e un… sì, essenzialmente un traversal listener. Con questo metodo da traversal listener io posso definirmi una mia classe di tipo traversal listener, quindi una classe che ascolti le operazioni di attraversamento che l'iteratore fa e venga chiamata. E questa classe traversal listener cosa deve contenere? Deve contenere dei metodi che corrispondono ai vari eventi che vengono generati dal literatore. quindi il traversal listener è un'interfaccia, io devo implementare una classe, devo crearmi una classe che implementi questa interfaccia e implementare interfaccia significa implementare questi cinque metodi. La mia classe implementerà questi cinque metodi e l'iteratore mentre va avanti chiamerà questi metodi nel momento giusto. Il metodo connected component finished lo chiamerà quando lui ha esaurito la visita di una componente connessa. Il secondo connected component start lo chiamerà quando lui inizia, quindi all'inizio della visita, la visita di una componente connessa. Edge traversed quando lui ha attraversato un arco. Vertex finished quando ha finito di analizzare un vertice, quindi vuol dire che ha finito di scoprire tutti i suoi vicini. Oppure verse traversed quando è stato visitato un nuovo vertice, è stato attraversato un nuovo vertice e ovviamente mi passa come parametro un evento che contiene l'informazione su quale vertice è stato visitato o su quale arco è stato attraversato. Allora a me quale interessa di questi eventi? Voi potete dire ma il fatto che è attraversato un vertice, cioè c'è arrivato su un vertice nuovo. Purtroppo no, perché io il vertice lo conosco già, li so già quali sono i vertici. Io quando scopro un nuovo vertice devo sapere da chi proviene, quindi ho bisogno dell'arco. Quindi voi immaginate che fate girare l'iteratore con queste due righe di codice che abbiamo già, ma ogni volta che chiamo next, lui dentro, frullando dentro il codice della libreria, a un certo punto scopre un nuovo, attraversa un nuovo arco per scoprire un nuovo vertice. Quando è così mi chiama il mio metodo edge traversed. A questo punto, in questo metodo io di nascosto vado a capire qual è l'arco che ha attraversato, quale è il vertice di partenza, quale è il vertice di arrivo e me lo segno da qualche parte. In modo da ricostruirmi quello che sulle slide la volta scorsa avevamo chiamato l'albero di visita, cioè un insieme di archi che costituiscono il percorso di visita che è stato usato dal literatore. Questo è il ragionamento, vediamolo un passo alla volta. Allora la prima cosa è costruiamo questo attraverso la listener, poi lo associamo alla classe e poi implementiamo il metodo edge traversed. Torniamo in Java, quindi dobbiamo implementarci, lo facciamo dentro il nostro modello, una nuova classe che è country traversal listener. La chiamo così. la quale classe deve implementare l'interfaccia attraverso la listener djgraph.t. Lo posso scrivere extensa a mano oppure lo posso fare direttamente qua, dove vie sono ovviamente country e default edge. Quindi abbiamo un oggetto che implementa un'interfaccia, che ho chiamato country traversal listener, che è un'istanza concreta di un possibile traversal listener. Il default edge non gli piace perché devo importarlo da jgraph.t. Adesso cosa mi dice Eclipse? Dice bravo, questa classe è una classe vuota, ma se tu vuoi implementare un'interfaccia, devi perlomeno definire tutti i metodi che sono stati definiti a livello interfaccia. E quindi lui per comodità mi può già dire aggiungi i metodi che non hai ancora implementato. Quindi clicco su aggiungi i metodi non implementati e mi fa l'override dei 5 metodi che abbiamo visto prima. Allora questo, questa classe qui adesso è una valida, è un valido attraverso la listener. Inutile, ma valido. Cioè non fa niente, ma implementa i metodi che deve implementare. Questo vuol dire semplicemente che noi possiamo tornare nel modello e dire guarda, caro mio iteratore che ti ho creato qua, prima di iniziare a iterare, quindi prima di arrivare qua al ciclo while, posso aggiungere un traversal listener sull'iteratore di tipo country traversal listener. Quindi dico all'iteratore, prima di cominciare a lavorare sappi che quello che tu fai dovrà essere osservato da questa classe. Quindi ogni volta che fai qualcosa, chiama il metodo opportuno di questa classe che ti passo. Quindi noi possiamo andare a vedere, andiamo in debug. Fermiamoci alla edge traversed che è quella che ci interessa. Metto un breakpoint qua. Così vediamo se davvero viene chiamata questa funzione. Ok? E facciamo partire la visita. Quindi qui funziona tutto, scelgo uno stato, cerca raggiungibili. Ok? Perché non fa niente? Perché ho usato quello del bagliato, aspetta. Ah, perché non ho lanciato in run e non in debug, scusate. ok. C'era il breakpoint di prima, aspetta lo tolgo adesso, non ci serve più. Ecco, qua sono dentro il metodo edge traversed. Quindi mentre lì se ne stava andando avanti, questo metodo qua noi non l'abbiamo mai chiamato. Abbiamo definito la classe e non l'abbiamo mai chiamato. Perché lo chiama l'iteratore mentre fa i suoi lavori. Ma io lo volevo vedere perché volevo capire cosa c'era qua dentro. Cioè quando viene chiamato questo metodo edge traversed, viene chiamato con un argomento che si chiama edge traversed event, è un oggetto che descrive che cosa è successo. No, perché mi chiama l'evento e dico, ho traversato un arco. Quale? Allora, al metodo che gestisce l'evento viene passato un oggetto, in questo caso di tipo edge, che collega Stati Uniti d'America e Canada. Quindi io dentro questo edge traversed event, che viene passato come parametro al mio metodo, trovo una proprietà edge, che è di tipo default edge, che contiene effettivamente i due archi, il punto di partenza e il punto di arrivo dell'arco che viene attraversato in questo momento. Poi contiene altra roba? Sì, contiene il riferimento all'iteratore che mi ha chiamato, vabbè, ma a me non interessa. Questo arco è stato generato da questa classe di iteratore, se avessi più iteratori diversi. Allora, le informazioni che mi servono sono qua dentro. Facendo attenzione all'ordine, perché io qua ho trovato USA-Canada, ma avrei benissimo potuto trovare Canada-USA, perché essendo il grafo non orientato, l'arco ce n'è uno solo per rappresentare tutti e due, quindi quando lui ha trovato un arco, gli archi uscenti dall'USA sono orientati in un modo oppure nell'altro a caso. Quindi dovrò fare un attimo attenzione a leggere questa cosa qua per capire se leggerlo per così o per cos'è. Va bene, allora io ho capito che riesco a farmi dire dal iteratore tutti gli archi che lui effettivamente utilizza durante la visita, in un modo un po' contorto per carità, ma ce la faccio. Allora me li devo salvare. Me li devo salvare in un modo in cui sia comodo poi di costruire il percorso. Allora, il modo più comodo, io potrei salvarmi la lista degli archi, però poi è un casino, immaginate di avere la lista degli archi di tutti quegli stati raggiungibili dall'Italia e poi vi chiedono come fai a raggiungere la Grecia? Dovrei trovare in tutta questa lista dove c'è la Grecia in prima o seconda posizione, andare a vedere l'altro, capire quale è lo stato precedente, è un lavoraccio. La cosa migliore è ricordarci che l'albero di visita è un albero, lo dice il nome. Un albero è caratterizzato dal fatto che un nodo può avere tanti figli, ma di sicuro un padre solo, che è quello che punta verso la radice. Allora, quello che io posso fare è ricordarmi per ogni vertice, nuovo, scoperto, e lo scopro nel momento in cui attraverso l'arco, qual era il padre da cui l'ho scoperto. Cioè, di questo arco, di sicuro, ci metto la mano sul fuoco, non so in che ordine, in che verso ha girato quest'arco, ma di questi due vertici, uno è vecchio e uno è nuovo. Uno è un vertice che avevo già scoperto in passato e l'altro è un vertice che non ho ancora scoperto, lo sto scoprendo adesso. Allora, io potrei salvarmi un riferimento che mi dice che il vertice nuovo appena scoperto è stato scoperto dall'altro. Quindi io quando dico scriverò Canada è stato scoperto da USA, Messico è stato scoperto da USA, Guatemala è stato scoperto da Messico e così via. Sotto che forma posso scrivere questa informazione nel modo più comodo possibile? Una mappa. Una mappa che mi mappa il vertice nuovo con il padre, col vertice da cui provengo. Allora, dentro dentro in questo metodo qua, mi popolo ho fatto una mappa di coppie di vertici, mappa country country, country nuova, virgola country vecchia. E così ho a portata di mano il bignamino, già con le soluzioni, la Grecia dove arrivi? Da Jugoslavia, basta leggere la mappa. Eh sì, però Jugoslavia non è ancora l'Italia, va bene, ma allora Jugoslavia a sua volta arriverò da Austria, Slovenia, non lo so, ma per come ho costruito queste cose di sicuro seguendo la mappa arrivo a Italia, arrivo al vertice di partenza. Ok? Allora, proviamo a farlo. Abbiamo detto, qui, questo è un argomento zero, non chiamiamolo l'evento. L'evento di attraversamento. Quindi sappiamo che evento.getEdge è l'arco appena attraversato. Quindi l'arco sarà da evento.getEdge.netge.netge Ha un sorgente e una destinazione. Come facciamo a estrarre il sorgente e la destinazione di un arco? Da graphs, punto, scusate, edge, get edge, come si chiamano? No, è graph. E' il source, adesso qui sto solo scrivendo dei commenti, cioè mi faccio dare, dal legge posso estrarre il source e il destination. E quindi aggiungerò in una mappa il link tra i due. Allora, vuol dire che qui dentro ho bisogno di popolare una mappa e di conoscere il grafo, di conoscere un po' di informazioni. E queste informazioni dovranno essere disponibili al modello dopo che lui ha finito di lavorare. Perché il modello di tutto questo non sa nulla, perché questo, l'event handler, lavora di nascosto. Allora, diciamo che il modello, lui potrebbe creare una mappa, fare in modo che l'event handler la popoli e poi alla fine se la ritrova riempita. Perché se la faccio creare all'event handler questa mappa, poi la perdo, la perdo. Allora, io nel modello posso creare una mappa di country country, che chiamo albero, ad esempio, così mi ricorda che rappresenta l'albero di visita. E mi ricordo, come fa però il listener a sapere qual è questa mappa? Glielo passo nel costruttore. E magari, già che ci sono, gli passo anche il grafo. Un metodo? Dove? Su country? Allora, lui sta dicendo Non lo voglio di fare la mappa, però potrei la stessa informazione memorizzarla direttamente dentro il nodo country, dentro l'oggetto country. E quindi, dentro country metto un'informazione parent che mi dice qual è il padre. Allora, la mia risposta non mi piace tanto perché il metodo country ha un suo significato, indipendentemente dagli algoritmi che ci faccio sopra. Cioè, corrisponde all'oggetto, corrisponde al database, corrisponde al nodo del grafo. Non è detto che, perché poi un domani mi serve avere due nodi dentro, li memorizzo tutti dentro country. Quindi l'oggetto country io lo lascerei puro, nel senso che contiene i dati che servono per rappresentare l'informazione. Poi, nessuno vieterebbe di fare magari un sottoclasse di country, che ha i campi che ti servono. Però queste sono informazioni a perdere, in un certo senso. Una volta che l'ho fatta, non mi serve più. Quindi, non aggiungerei campi, perché altrimenti non c'è nulla che ti ferma ad aggiungere campi. Ah, sì, perché in questo metodo mi serve un campo, lo aggiungo lì. Quindi, cercherei di separare quelli che sono i dati rappresentativi del modello, dai dati che servono agli algoritmi per lavorare. Che poi dopo li dimentico e quindi non li mantengo nella classe principale. Ok, la map la passiamo a questo. Quindi devo dire al listener che lui ha un costruttore ha un 3D voltage che riceve come parametro un grafo e un mappa map e di questi cosa se ne fa? Se li memorizza quindi private graph G private questa roba qua facciamo graph non so G map this.graph uguale G this.map uguale map adesso definiamo tutte le cose che gli servono tutti gli import che vuoi già appunto utile questo è il caso che si tratta è il caso è il caso è il caso va bene si vabbè non riuscivo a farmi fare l'importa sola e poi cosa c'è che non va vabbè magari public così attraversa l'istra costruttore mi sa rabbia perché vuole un nome qua ma il costruttore non ha un nome ah si il nome della classe non quello di interfaccia va bene va bene poi mi direte cosa quello è diverso quello rispetto al mio ok l'unica cosa che mi manca ancora è personalizzare il grafo qua così questa schifezza qua cos'è ok allora ci siamo abbiamo memorizzato dentro la classe un riferimento al grafo e un riferimento alla mappa da popolare allora vuol dire che noi dovremo qua dentro aggiungere alla mappa chiave valore la chiave è il nodo appena scoperto e valore è il nodo da cui proviene quindi può essere dal source alla target oppure al contrario perché non so come aggiungerlo l'arco quindi ora lo aggiungo di così e lo aggiungo di cosa lo aggiungo nel primo modo se il source è il vertice nuovo e il target è quello vecchio perché io devo far sempre una mappa che dal vertice appena scoperto mi punta al padre da cui è stato scoperto da cui provenivo Grecia punta a Jugoslavia viceversa se l'arco che mi sono trovato è girato al contrario dovrò chiaramente la mappa deve sempre puntare dal lontano verso il vicino dal nuovo verso la la sorgente allora io come faccio a sapere in quali due casi sono come è girato l'arco e beh lo so perché di sicuro uno dei due vertici ce l'ho già la mappa ce l'avrà già perché l'ha già visto prima nel key set della mappa uno dei due ce l'ha già l'altro no giusto? io all'inizio tutto ciò che scopro è nuovo avrò solamente il sorgente adesso a questo punto devo ricordarmi di mettercelo dentro la forza esorgente mapp su null cioè Italia su null poi secondo che scopro che è Francia Italia che si è scritto Francia Italia o Italia Francia l'Italia c'è già nella mappa la Francia non c'è ancora e quindi va aggiunta una relazione che dalla Francia punta l'Italia quindi mi chiedo se li chiamiamo in un modo più comodo country c1 perché se no ci incasiniamo vero? e country c2 il target quindi se c1 non è contenuto nella mappa non è ancora una chiave della mappa allora è lui quello nuovo se c1 non è contenuto nella mappa vuol dire mappa punto not innanzitutto not mappa punto keyset ah contents key c'è già contents key di c1 allora c1 è quello nuovo e quindi mappa punto put c1 c2 altrimenti c2 è quello nuovo e quindi map punto put di c2 c1 perché c2 è quello nuovo che quindi sarà stato scoperto da c1 che è quello vecchio ok ok proviamo a vedere cosa succede metto qua una print per vedere se riusciamo a capire cosa succede devo ancora fare una cosa perché abbiamo detto quello vecchio deve esserci già quindi il punto di partenza lo devo mettere io a mano quindi partenza valore null così ci serve anche poi per fermarci quando chiamiamo il gate of source ci da invece che riceviamo un object e deve essere un cast allora deve essere il graph il graph dovete ricordarvi di parametrizzarlo con i parametri giusti perché altrimenti può essere questo o anche l'evento è parametrizzato con default edge è solo una questione che manca qualche generic da qualche parte se vi da un errore sui cast allora vediamo se riusciamo a farci stampare qualcosa qua sotto mi sono fatto stampare la mappa che abbiamo appena creato e la mappa mi dice USA null perché la dice Ecuador li mette in ordine a spasso perché in hash map sapete che li rimescola secondo la chiave di hash l'Equador è stato scoperto dalla Colombia è stato raggiunto dalla Colombia la Colombia è stata raggiunta dalla Panama il Venezuela è stato raggiunto dalla Colombia l'Uruguay dall'Argentina Messico dalle Stati Uniti no? ha senso no? il Perù l'ho raggiunto dall'Equador non è l'unico modo eh il Brasile dal Suriname il Guiana da Venezuela andiamo avanti Belize dal Messico e Canada dagli Stati Uniti d'America e così via quindi abbiamo per ogni Stato effettivamente il puntatore allo Stato precedente ok allora dopo tanta fatica cosa abbiamo? abbiamo fatto in modo torno al model che è la get raggiungibili che fino ad ora mi calcolava semplicemente la lista delle città raggiungibili delle country raggiungibili si ricordi anche un albero di raggiungibilità questo albero di raggiungibilità non ci serve sulla funzione cerca raggiungibili ci servirà sulla funzione cerca percorso quindi noi dovremmo fare in modo che questa mappa questo albero che abbiamo appena faticosamente calcolato perché non dite che non è stato faticoso ce lo salviamo all'interno del modello in modo che il bottone cerca percorso ha già la pappa a fronta e deve semplicemente consultare quest'albero per stampare il percorso da fare quindi questo è facile perché basta promuovere questa variabile albero a variabile distanza qua dentro il modello private map country country di albero di visita chiamiamolo così e quindi dopo che l'ho calcolato dis.albero visita uguale albero questa print la possiamo togliere quindi questo metodo get raggiungibili lui ritorna solo la lista ma dentro si è calcolato e si è salvato anche l'albero di visita e a questo punto il controller ha vita facile sull'altro bottone cerca percorso perché dovrà semplicemente estrarre la destinazione e chiedere al model il percorso da fare per arrivare alla destinazione e stamparla adesso qua ho abbreviato non ho fatto gestione degli errori perché l'ora sta per finire e il modello nel get percorso ha già tutte le informazioni che gli servono perché sono dentro l'albero di visita quindi il suo percorso che deve restituire come lo ottiene? partendo dalla destinazione ovviamente e risalendo l'albero percorso cosa fa lui? finché c non è null finché non ha raggiunto la cima c uguale map.albero visita get dc e poi percorso punto addc cioè cosa sto facendo? sto partendo dal fondo che è la destinazione e la aggiungo nella lista del percorso poi mi chiedo a questa destinazione che ho chiamato c da dove sono arrivato? vado a interrogare la mappa caro mappa da dove arrivavo? e me lo dice a questo punto il punto da cui arrivavo lo aggiungo al percorso prima o poi arrivo al nodo di partenza che avevo inserito nella mappa con un value null e allora mi fermo infatti non sarebbe male scusate fare così così altrimenti aggiungo anche il null allora questa cosa qui dovrebbe semplicemente essere il percorso di cui ha bisogno il controller proviamo a vederlo scegliamo i Stati Uniti cerchi raggiungibili Belize dovrebbe dovrebbe stamparci Belize Messico Stati Uniti eccolo qua non è andato a capo scusate la grafica Belize Messico Stati Uniti se cercassi l'Italia cerca raggiungibili dimmi come far arrivare in Russia qua in fondo no qua si è piantato per qualche motivo vabbè lo risolviamo domani allora io vi faccio commit di questo ci sono ancora un paio di aggiustamenti da fare li facciamo domani martedì sera e poi passiamo oltre sui percorsi minimi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti